Torna il tradizionale appuntamento con il tredicesimo trofeo di Carnevale di Ciclismo organizzato dal Veloclub San Salvo, Assessore Marcello, uno dei grandi appuntamenti per la vostra cittadina. Sì, il tredicesimo appuntamento di questa competizione, molto bella sulla nostra città, apre la stagione ciclistica diciamo in Abruzzo, è una delle prime tappe che si fa, è una grande vetrina per la nostra città vista che si fa sul mare e quindi apre anche la stagione estiva per quanto riguarda il discorso del turismo. Purtroppo quest'anno si discosta un po' la location degli altri anni perché stiamo facendo un restyling della città, di quel posto e l'anno prossimo sarà una location eccezionale perché rivedrà tutta la strada rinnovata, i marciapiedi nuovi, un palco eccezionale per chi viene, quindi le strade saranno migliorate sotto il profilo tecnico per quanto riguarda la gara e che dire, vi aspetto numerosi nella nostra città. Torino Maggitti, allora tutto pronto per questa tredicesima edizione del Trofeo Carnevale, c'è qualche novità che riguarda il percorso quest'anno? C'è una novità, quest'anno abbiamo dovuto modificare un po' il percorso, di un lato si torna all'antica, che già questo percorso lo facevamo nei primi anni della manifestazione del Trofeo Carnevale, è un bellissimo, è più lungo, non è più 3 km ma è 4,5 km per ogni giro. Sarà una giornata di festa, arriveranno tanti ciclisti anche da fuori Abruzzo? Sì, come sembra, con le pre-iscrizioni che ci sono già, sono circa 70, vengono da Lazio, già ci sono iscritti da Lazio, dalle Marche, sembra proprio di sì e speriamo che il tempo ci accompagna e sarà una bellissima manifestazione, io me lo avro, noi ci mettiamo tutto l'impegno. Appuntamento dunque domenica? Domenica mattina alle 7.30 per ricognizione, la prima partenza sarà alle 9.30, la seconda subito a seguire si partirà per la seconda batteria.